Abbiamo un debito verso la nostra Task Force e l'ULF per il successo contro Vladimir Makarov e il suo esercito. Si è parlato molto dell'ULF. Farah Karim e i suoi soldati sono dei terroristi? No, Farah Karim è ed è sempre stata un'alleata degli Stati Uniti e dei nostri partner occidentali. E la comandante Karim come si è procurata armi americane? Per quasi un decennio ho inviato armi alla comandante Karim per supportarla nelle missioni contro Al-Qatala e le incursioni russe nell'Urgistan. Spedizioni illegali? No, per poter salvare delle vite ho inviato delle spedizioni illegali con fondi che ho approvato io stesso. Silenzio, silenzio, prego. Generale Shepard, nell'ottobre 2022, ha autorizzato la Shadow Company a sparare su una Task Force sotto il suo comando alla Salmas, Messico? No, non l'ho fatto. Signor Graves, lei ha ricevuto l'ordine di sparare contro la TF-141? Sì, signore. Silenzio, silenzio in aula. Chi le ha dato quell'ordine? Il generale Shepard. E lei ha eseguito quell'ordine Graves? No, nel modo più assoluto. Silenzio, silenzio! Oh cazzo. Si sono pugnalati alle spalle. Pensano solo a salvarsi la pelle. Ognuno pensa per sé. Questa è la differenza tra noi e loro. Facciamo finta di niente, capo. Il modo per fermare le guerre è vincerle. Niente prigionieri. Buona caccia. Anche a te, capitano. Nick, riporta indietro Farah. Sì, subito, capitano. Bene, pronti all'estrazione. Torniamo a casa. Watcher è bravo. In ascolto, Watcher. L'M6 ci sta girando comunicazioni di Connie. Forza, Kate, dove sono? Connie è a Londra. Forca puttana. Makarov è vivo. Ha comunicazioni di un certo zar 9-0. È la sua disegnazione. Che cosa ci fanno a Londra? Secondo l'intelligence, domani Connie incontrerà un noto Black Hat a Greensbury Park. Un hacker. Il bersaglio. A cosa vuole accedere Connie? Scopriamolo e fermiamoli. Quell'hacker può condurci da Makarov. Se Connie è a Londra, lui non può essere lontano. Ottenute le informazioni dovremo sbrigarci. Chiederò a Londra un'unità antiterrorismo. Ghost, collegati alle telecamere di Londra e guidaci mentre noi seguiamo il bersaglio a terra. Makarov potrebbe essere qui. Capiamo dove si trova. È del nostro. Per ora... Seguiamo il bersaglio e troviamolo. Bravo 07 a Watcher. Telecamera online. Ok, confermo. Segnale radio? Check. Sei in posizione. Soap. Forte e chiaro. Affermativo. Vedo il bersaglio, cappuccio nero. Perfetto. Diamoci da fare. Ok. Soap pronto a muoverti. Non fatevi notare o perderemo Makarov. Sarà fatto. Attenzione. Sembra agitata. Se vede uomini che la seguono, fuggirà. Capito. Bene. Soap avanza verso Gaz. Puoi andare. Hai da accendere? Fumi, Johnny. Mi mimetizzo, tenente. Se lo dici tu. Sergenti, il bersaglio si muove. Se fa una chiamata o parla con qualcuno, dobbiamo sentirla, Soap. Ricevuto. Se parla, l'ascoltiamo. Fermo. Si allaccia la scarpa, forse sospetta di essere pedinata. Bravo cagnolino. Sì, è prudente. Di sicuro ha a che fare con Makarov. Si sta muovendo. Stalle dietro. Le squille al telefono. Avvicinati e ascolta. Tieni, lassi. Va soltanto in sé. Lei, l'ho ricevuto i soldi. Ho lasciato la chiavetta dietro il cassone. Sì, tra bistro 43 e ticato. Stessa, tu mi piace. Si sta muovendo. Che ha detto? Ha consegnato qualcosa per un acquirente, una chiavetta, nel vicolo tra bistro 43 e ticcafè. Ci serve uno visuale. Ghost, usa le telecamere. Ok. Visuale sull'uscita del vicolo. Niente coni, se ne saranno già andati. Bene, cerca sui filmati qualcuno che esce dal vicolo, 07. Deve essere l'acquirente. L'ho trovato. Non perderlo, Ghost. Qualunque cosa abbia, ci serve. Va avanti. Dobbiamo seguire i suoi movimenti. È un agente di coni. L'acquirente è entrato. L'ho perso. Cambia telecamera. Contatto. Lo vedo. Un autobus blocca la visuale. Trova un'altra visuale. Stai vedendo, Laswell. Affermativo. L'acquirente è uscito dal bistro 43. Il bersaglio attraversa la strada. Sta su di lui, Delente. Contiamo su di te. Visuale riacquisita. Bravo. Il bersaglio si dirige verso il tunnel pedonale. Il tunnel è un vicolo cieco. Un buon nascondiglio per Connie. E Makarov. Polizia e unità antiterrorismo sono pronti a mobilitarsi. Chiamiamoli. Ricevuto. A tutti equipaggiarsi e pronti all'irruzione. Roger, sei in arrivo. Cordone sul perimetro. Gli altri con me. Tunnel libero. C'è una porta chiusa per la vecchia stazione ferroviaria. Alla porta. Pronti a sfondare. Irruzione pronta. Al suo segnale, capitano. Pronti. Facciamola finita. Irruzione tra tre, due, uno. Avanzo. Avanzo. Copro a sinistra. Copro a destra. Libero. Siamo dentro, Laswell. Ricevuto. Trovate l'acquirente e prendete quella chiavetta, John. Contatto. Libero. Contatto. Siamo dentro. Libero. Team uno di sotto con noi. Ricevuto. Il team due prenderà posizione di sopra. Contatti nel corridoio. Gas sul fianco. Ricevuto. Dobbiamo neutralizzare quella torretta. Concentriamo il fuoco sulla torretta. Capito. Il team due prenderà posizione di sopra. Per il team due prenderà posizione di sopra. Contatti nel corridoio. Gas sul fianco. Siamo dentro. Mi muovo a destra. Possiamo dentro la ruota con la torretta. Siamo dietro con la torretta. Siamo dietro con la torretta. Siamo dietro con la torretta. Siamo dietro. Con me e gas passiamo per il bagno. Siamo dietro con la torretta. Siamo dietro con la torretta. Siamo dietro. Siamo dietro. tiratori di coni nei negozi non scendiamo avanziamo ammazziamo quelli stronzi e recuperiamo una altra torrenta nemica torretto della stanza a sinistra rpg al primo piano a sinistra l'rpg sta ricaricando eliminiamolo la torretta si blocca capitano a sinistra 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 au rara emotions dude riusciti nel sicuro oddio 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 ma siamo allo scalpe quella è l'ultima posizione nota di makarov occhi aperti sai prepariamoci makarov potrebbe essere dietro queste porte quando vuoi signore mi muovo avanzare aprire il fondo il 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 avanziamo basso attenzione i treni sono parecchi ci sono civili feriti e i nemici non mancano ricevuto stiamo avanzando Makarov deve essere vicino torretta distrutta facciamo le cuore giuggernaut nemico a terra non sono grossi a terra eliminiamo gli ultimi giuggernaut nemico a terra giuggernaut nemico a terra giuggernaut nemico a terra si 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 fermeremo solo dopo aver sistemato Makarov stavolta non se la caverà signore casa 6 coni lo scherza siamo bloccati guardatevi le spalle hanno messo tiratori ovunque ricevuto talente diamoci dentro i coni sorvegliano una bomba vista unità antiterrorismo stabilire un perimetro signor si so occupati della bomba si due minuti signore bravo bomba sulla piattaforma dello scambio mi serve copertura ora ricevuto in arrivo intanto porca c***a datti da fare so sei la bomba è un lavoro per due dammi una mano presto signore ci resta poco tempo stiamo perdendo te non posso farlo da solo capitano mi serve qui sulla bomba subito eccomi parlami sop è una bomba sporca c4 è polvere radioattiva farà implodere il tunnel e contaminerà l'europa come la disarmiamo? mi serve il logo del produttore sul grosso circuito stampato dimmi qualcosa capitano il logo sul circuito moledizione troppo tardi eccomi parlami sop è una bomba sporca c4 è polvere radioattiva farà implodere il tunnel e contaminerà l'europa come la disarmiamo? mi serve il logo del produttore sul grosso circuito stampato dimmi qualcosa il logo è un orso ricevuto orso taglio il cavo bene abbiamo guadagnato un po' di tempo attenzione price makarov è nel tunnel si dirige verso di te su su hai sentito? affermativo non lascerò questa bomba capitano mi hanno colpito su pronto a sparare se la molla esploderà capitano ci serve copertura cazzo bravo qui serve fuoco di copertura subito siamo in trappola capitano coni ha bloccato il tunnel fatevi strada non devono avvicinarsi capitano 07 a 6 siamo riusciti a passare muoversi e adesso sob? dobbiamo trovare l'innesco in basso a sinistra ricevuto l'innesco collegato al C4 si c'è un numero seriale su qual è la terza cifra? numero 9 ricevuto ottimo lavoro questa bomba ha due inneschi dobbiamo tagliarli contemporaneamente cavo rosso cavo rosso cavo rosso soft indietro salmi porta questo con te all'inferno mai dare un nemico per morto no capitano rice no si sta scontando è andato porca puttana johnny capitano la bomba come la fermiamo? ok filo rosso solo rosso sopa ha detto di tagliare insieme al 3 capito? ok al 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 9 10 10 2 3 desinnescata desinnescata siamo salvi a tutti qui bravo sei alla cieca minaccia neutralizzata bomba disarmata una vittima Oh, no. Oh, no. Oh, no. La fortuna aiuta gli audaci. Dormi tranquillo, soldato. Ci rivedremo, fratello. Ci pensiamo noi qui. Riposa in pace, Johnny. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì.